Buona, come stai? Anzi a pre-live, pre-live, tra poco sono io poi incostato, direttamente da Sora, con Fran de Gianni Aris, Sdeucassi! Big, big, ah, ah, ah! Forse, come le grida della notte, facca, non cambia le sue rotte, mi ti fote fra, mi non è pesa, non è molto assento a far cosa è di fare io! Chi è ci e tu, facco, ne rappra, ci sono tedesco, faccio parte ma non riesco a dire basta, c'è trovo un maxillano con sto rap che dire basta, è forte! Forse, come le grida della notte, nano, non cambia le sue rotte, Sta roba è forte, il presidente ha le sue tasche con sta roba è forte, come il parro ha metto le sue tasche con un forte, talmente forte, che se l'ascolti dalle podline poti prendere a posto! Vedi un porno, fatte come voi, sento un porno! Un bacio, ciao! Raga, questo è il mio regista, ho fatto un po' di casino! La mia copia, non è brutta, non è bene! Ah, ah! È una cosa che mi hanno fatto, un notore ha detto mamma, si prende a crescere ho fatto scasso tòx, mi hanno battezzato mazzi ma, ma un nome che sono sempre appartato è stato Max! È una cosa che mi fatanare, da Strangela cimura, le canzoni! Tanta alla cappa, da me ne è pure scelupighe! Qui c'è un avversario giù, chiude te non dez i minuti! Mi chiamo Cunan La dalla sa parlare Daxipo sei un culo che m'ho già brucia La sa perdere l'unzevurso messo Grazie ragazzi Fai buco ora le campane Io metto l'unfam C'è un ueso daxipo C'è un uomo che non è stato buono E so, frate a tutti e a nessuna Cammino te la capa dritta Bitti su son marcia abit Parlo buone, parlo pitt Fai funzioni uccur vite Parlo ce put parla C'è un uomo che non è stato buono Siamo cittadini 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 a chi amandiamo a stare al den chi amandiamo a le cristiane illusi che provano a cambiare dove ad ascettare un sangue a manca la fatica c'è l'atena, va a pagare un pizza all'alto chi tocca la capa calda chi ve piace sbagli spara nelle gambe ci si fortunati, ci no vedrete a cambiare sangue facendo l'exizio e feso tutto un cano facendo le chiose nuove e chi rimane senza decode non tenuto più in piano se la malattia e politica è la stessa cosa e non so capisciuto angorci con le duie più mafioso dopo le chiufra, a dove va dove non nemmo scegli da pregare per cambiare l'occhio non si sente importante quando sa chiamando specchio vede le terrisse, le trughe si ha fatto un film di essere scarface poi ha chi nascita in terra dopo non mi inspira grazie grazie sora grazie grazie un ringraziamento speciale va a spacca grazie bravo stai vincicare sì grazie 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 davvero un ringraziamento lo vorrei fare a spacca perché mi ha dato l'opportunità di stare su questo palco di aprire con sangue rap per protesta ciao 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 che cazzo riprendi da vicino abbiamo appena finito il live siamo male in pratica siamo nell'hotel stiamo quasi dormendo una bomba d'hotel stiamo quasi con me perché siamo solo stessi una bomba di live quasi ora sempre con il mio staff buio gioan buio franzo un'altra tappa è andata quest'anno quest'estate abbiamo girato un sacco ci siamo divertiti insomma sono dei sfatti appagati guardate il condizionatore assorto condizionato soprattutto siamo in tre in una stanza dove dovremmo essere due brah e poco poco ci sgavano ci aprono il culo ma non fa niente non so se sta venendo a fuoco e questa è la cosa bella ci sono specchia brah ci sono specchia ci sono specchia basta e lo spie malò ok bella ciao ciao Grazie.